Come si è passato? Come si è passato? Forza Bruxelles! E' uscito? E' uscito? E' vinto il sintetico? 1-0! No! Ecco, ci può essere un'azione in campo ancora! Porco, me la male che ha sbagliato! C'è un'azione, però non vedo la palla perché, cioè, il palo! Io ho associato l'arbitro, congratulations! Io ho generato il mio palo! Sì, io ho tornato la mannata! E' giù con Matteo! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Chiudevo! Vabbè, vabbè, vabbè! Nick Vierque! Vabbè! Finisce qua! 3-0! It's magic! Vamos!